Io feci grazia, un'ora, due volte, mi piaceva, mi sentivo un padre eterno. Moltissimo, sempre, non bisogna mai essere scettici su questo perché dai idioti. Se noi parliamo con 100 esseri umani o parliamo con 25 mila persone sulla rete quando metto un messaggio, non gli ho detto quasi nulla. Forse ho strappato un sorriso, ho rimandato a una possibile riflessione, invece a questi 100 che vengono ogni sera al teatro tu dici una cosa importante che condividi con loro completamente e che loro non dimenticano. Io lo dico perché io sono uno spettatore, io tra l'altro amo il teatro e anche il cinema e io quando vado a vedere uno spettacolo, ora che ho la mia età vado a vedere solo gli spettacoli belli perché lo so quali sono quelli belli, uno spettacolo ti arricchisce in modo determinante, cioè uno spettacolo ti cambia la vita, sempre uno spettacolo ovviamente. Di tutti quelli che ho ammazzato, rimpiango soltanto l'essenzialità, mai più ritrovata dei gesti. Grazie.